Sono venuta a sapere di questo forum grazie all'università. È una formula aperta dove ci sono le opinioni, ci sono dei temi che verranno discussi e le opinioni dei singoli. Già confrontando i nostri due abstract sono diversi. Io ho affrontato più un tema della necessità di internet, della tecnologia all'interno della pubblica amministrazione e poi invece ho fatto un abstract sui mondi virtuali e la pubblica amministrazione. Quindi cercare di introdurre questa innovazione anche all'interno della pubblica amministrazione. Mi sono posto dei problemi relativi al modo in cui attuarla, come è stata attuata fino a... Ma voi vorreste lavorare nella pubblica amministrazione? Io già lavoro nella pubblica amministrazione. Tu lavori nella pubblica amministrazione e cosa ne pensi? Cosa dire? No, vabbè, immagino dipende anche da... Dove lavori? Lavori in Istas, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro. Secondo me c'è tanto lavoro da fare all'interno almeno dell'ente pubblico in cui lavoro. È ancora altamente burocratico e l'innovazione sembra completamente contrario al concetto di innovazione. Secondo me è proprio il modo in cui l'approccio organizzativo, il modo in cui affrontano le questioni è, secondo me, all'opposto rispetto all'innovazione. Cioè bloccano qualsiasi idea che sia creativa perché comunque è difficile da effettuare in un ambiente in cui da gestire, in un ambiente in cui comunque c'è bisogno sempre di pezzi di carta scritti, di autorizzazioni, di... È necessario un punto di rottura e così poi si può iniziare. Grazie. Grazie. Grazie.